Come mai tutti mi chiedono di fare un featuring con certi artisti come ho conosciuto io, il Truceclan, eccetera eccetera? Io voglio dirvi una cosa, io ho argomenti diversi da quello che dicono loro. Io non ho niente in comune con loro e comunque io non voglio parlare di argomenti che si parlano come sempre delle solite cose che raccontano molti artisti. Io mi sono fatto da solo, mi sono creato da solo e sono stato spontaneo. Comunque ragazzi non dovete dirmi fai un featuring con quello, fate un featuring con un altro, ma fate i ricavi di vostri ragazzi perché io, poi dipende da loro perché loro mi dicono di no, trovano delle scuse per non fare un featuring. Quindi voglio dire, se io non ho a che fare con loro, non li frequento, non li conosco per niente ovviamente, come tipo il Truceclan, io li ho presentati una serata, il Truceclan, adesso purtroppo si sono sciolti, non certo per vari motivi, per il fatto che loro hanno da lavorare, ci sono stati altri rapper nuovi. E comunque ragazzi, è inutile che mi dite a me di fare un featuring con chiunque sia, perché io lavoro ovviamente da solo e non ho bisogno di qualcuno che mi deve fare un featuring con qualcuno. E' stato grazie a un aiuto? Vabbè, ho capito comunque, però sono anche e soprattutto gelosi che io ho fatto successo senza fare delle rime. Ok, vabbè, vendetta bene, è un pezzo eccezionale, vi do ragione comunque, perché contro l'educatore, ho avuto alla scuola media. E comunque ragazzi, non vorrei dirvi che io non li farò mai dei featuring con qualcun altro artista, altri artisti, altri rapper, perché non ho niente in comune con loro. Secondo te, facciamo un esempio, Metal Carter o Noi Snarkos, si metteranno a fare un featuring con me, che io non ho argomenti con loro. Cosa parlo io? Di scuola? O di odio alla scuola? O di insegnanti delle ansie, delle paure? Perché loro hanno argomenti diversi rispetto alle mie. e comunque vi ringrazio moltissimo che mi dite queste cose di fare un feto, ma farlo con quello, farlo con quell'altro, ma io vi ho spiegato gli esempi di queste cose. Io non mi vado a insistere, io cosa centro con loro? Non centro niente con loro. Comunque ragazzi, Trucce Valdazzi, rispetto per Trucce Clan che ormai si è sciolto, e ci sono altri rapper rispetto per loro, Trucce Valdazzi, malatto mentale.